ebbene a tutti amici usare giusta 99 siamo arrivati con un nuovo video siamo tornati nella nostra creation game di fifa 22 oggi a grande grandissima richiesta vi mostro come creare la mac banda il giovane nuova giovane ala del del lecce che arriva direttamente dal maccabi vi ricordo mentre grazie sono un bel like di commentare condividete di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto mente di continuare il prossimo video che uscirà dipenderà dai vostri commenti dalle vostre interazioni dei vostri like ai commenti stessi il commento più votato più scelto giocatore più scelto da voi sotto questo video sarà il prossimo ad uscire quindi datevi assolutamente da fare per andare ad aumentare il nostro e il vostro pacchetto database di giocatori su fifa 22 vanno le ciance passiamo alla costruzione di la mac banda nome la mac cognome banda nome sulla divisa banda maglia 22 nata nella zambia lecce 29 gennaio del 2001 fisico abbiamo 168 cm per 71 kg ovviamente 71 kg di massa muscolare posizione attaccante destra un'ala nella destra piede destro attributi attacco 65 65 35 65 55 2 difesa 25 20 abilità 60 65 45 65 65 potenza 65 60 75 70 60 movimento 90 85 80 80 mentalità 55 55 55 questo per quanto riguarda gli attributi di la mac banda passiamo alla costruzione del volto che è quello che vi interessa ovviamente di più tono e carnagione andiamo a selezionare questo colore sopracciglia selezioniamo il terzo modello disponibile che andiamo a colorare in questo modo occhi selezioniamo il secondo modello presente che trasformiamo così passiamo adesso al naso ultimo modello della prima fila che costruiamo in questo modo bocca selezioniamo il terzo ultimo modello della seconda fila e lo andiamo a costruire in questo modo guancia mascella selezioniamo l'ultimo modello presente e lo trasformiamo così mento secondo secondo modello che costruiamo in questo modo orecchie terzo modello disponibile che andiamo a costruire in questo modo passiamo adesso ai capelli capelli corti andiamo a selezionare questo modello presente che quello che si avvicina un po di più al taglio attuale del giocatore ovviamente color castano e infine barba lasciamo ovviamente senza barba quindi ragazzi questo per quanto riguarda la creation game di la mac bandai la nuova giovane ala del lecce vi ringrazio spero che vi sia piaciuto spero sia stato di vostro gradimento continuate a segnalarmi i giocatori ovviamente come detto già da qualche video a questa parte quello più commentato quello più laicato sarà il prescelto per il prossimo video quindi mi raccomando datevi da fare coinvolgetti i vostri amici coinvolgete tutti coloro che possono darvi una mano affinché esca il giocatore il vostro giocatore desiderato nel registro di una trame tutta ragazzi qui con me la mac bandà ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi grazie 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 grazie